il ristorante da gorini nasce come scelta di vita quindi a un certo punto del mio percorso professionale ho deciso insieme a mia moglie di chiudere un cerchio di dare un senso a tutto quello che era stato prima abbiamo fatto questa scelta nel 2017 abbiamo deciso di tornare a vivere a san piero in bagno conosco questa terra da tanti anni e ho trovato un luogo dove ho potuto apprezzare fino in fondo i valori veri della vita oggi la nostra idea di cucina è un'idea che prende spunto dai luoghi dal paesaggio proprio a livello visivo l'alta valle del savio è un luogo unico un luogo magico dove tutto è ancora profondo vero autentico e dove le persone così godono di piaceri e sentimenti profondi poi per fortuna la tecnica la conoscenza lo studio oggi ci permette di raccontare in maniera nuova qualcosa che in realtà è dentro di noi io dico sempre che il nostro il nostro ristorante è un luogo di ospitalità dove le persone devono venire e concedersi il lusso di perversi nel tempo